Poco più della metà della popolazione fra i 60 e i 69 anni ha detto sì al vaccino anti-covid. Contrariamente all'entusiasmo dei primissimi giorni d'apertura, dei nuovi slot per questa fascia d'età, si registrano però defezioni importanti. Il miglioramento della copertura è una priorità per la tranquillità di tutta la comunità, afferma la direttrice generale di ULS, Dolomiti, Maria Grazia Carraro. Il buon senso dice che cerchiamo di raggiungere la soglia più alta possibile, prenotiamoci e vediamo di sostenere questa campagna vaccinale che credo sia a favore dell'intera collettività. Buona la copertura per gli over 80 che ha raggiunto quasi il 96% della popolazione, l'80% quella garantita alla fascia 70-79 considerando le ultime prenotazioni. Nei prossimi giorni si stima saranno vaccinate 3.000 persone, nei Vax Day organizzati in corrispondenza con il weekend in provincia. disponibilità di vaccino anche per le persone conviventi di soggetti estremamente vulnerabili e disabili. Le prenotazioni, oltre che direttamente dal sito, possono essere fatte in farmacia e contattando il 112, il numero di pubblica utilità dell'arma dei carabinieri. In questi giorni, frattanto, sono partite le comunicazioni, circa 370, al personale sanitario che non risulta ancora vaccinato. Siamo in attesa delle determinazioni che devono produrre e quindi siamo in questa fase.